Buongiorno, buon inizio di settimana da chi vi parla e da Massimiliano Chiocchio in regia. Prima edizione del telegiornale che apriamo parlando dei dati sul covid, sul report diffuso ieri pomeriggio dall'azienda sanitaria regionale. Sono quattro i nuovi positivi riscontrati su 102 tamponi refertati, a dirlo è l'ultimo bollettino ASREM. Nel dettaglio sono interessati i comuni di Agnone, Monte Falcone, Santa Croce e Venafro, nove le persone guarite. E dopo il cittadino di Campodipietra ricoverato a malattie infettive non se ne registrano di nuovi, per cui il totale degli ospedalizzati nel reparto per covid resta 13. Intanto si muove il sindaco di Trevento, Corallo, centro che conta il numero più alto di contagi finora. La situazione, fa sapere il primo cittadino, è costantemente monitorata. Anche se si contano sette guariti, rende noto Corallo. In paese i positivi sono una trentina, ma molti di loro appartengono a nuclei familiari già in isolamento da giorni. Intanto il sindaco ha firmato due nuove ordinanze, tra queste la chiusura degli uffici comunali dal 6 settembre al 13, tranne quelli che erogano servizi essenziali. Inoltre, ha stabilito Corallo, i medici di base e i pediatri devono comunicare tempestivamente eventuali casi di positività emersi dai tamponi molecolari o antigenici. La campagna vaccinale in regione va comunque avanti con una percentuale di immunizzati con due dosi che si attesta al 68%. Cambiamo argomento, il concerto TecnoJets dei Toon ha concluso la Kermess Kiss Me Deadly dedicata al Noir, che ha visto un grosso riscontro di pubblico nei cinque giorni dell'evento. Ce ne parla in questo servizio Marta Martino. Nove film, sei incontri, due concerti. Anche quest'anno, nonostante il Covid, è notevole il risultato che la rassegna Kiss Me Deadly porta a casa. La partecipazione di pubblico è stata più che soddisfacente. Un appuntamento che punta sul Noir, ideato dall'associazione culturale Kiss Me Deadly, è prodotto da Fondazione Molise Cultura. A chiudere in bellezza la Kermess, l'incontro con Gianmarco Guazzo e Leopoldo Santo Vincenzo sul raccontare il mistero su fiction in realtà e la proiezione del film Non Uccidere. A concludere la serata, i Toon, Torino Unlimited Noise, trio di musicisti dalla solide e navigata esperienza nel mondo jazz che della contaminazione jazz-tecno hanno fatto il loro tratto distintivo, perché quello che loro credono fermamente, hanno detto durante l'intervista, è che il jazz abbia bisogno di contaminarsi il più possibile, un po' perché contaminato lo è sempre stato in quanto musica dell'anima, un po' per abbandonare il vestito di sonorità difficile che appare ai più. Più di un'ora sul palco dell'ex Gil di Campobasso, tappa del loro tour in giro per l'Italia a divertirsi e divertire. Fabio Giacchino, tastiere synth, Mattia Barbieri, batteria e Gianni Denito, sax, hanno presentato soprattutto le canzoni del loro nuovo lavoro, New Door, un omaggio alla stazione Porta Nuova di Torino, ma non solo. New Door in particolare, se è il titolo dell'album, ma anche di un pezzo, è una porta verso l'interno che ti permette di, se vuoi, di ballare, di concentrarti su quello che assolutamente vuoi, nel senso che il lockdown ci ha permesso non di uscire, di vedere delle nuove porte all'esterno, ma l'unica porta che potevi guardare era dentro di te. E quindi abbiamo cercato di sfruttare questo concetto insieme al fatto che a Torino New Door, Porta Nuova, è la stazione dei treni e quindi è un crocevia di incontri e di viaggi, di partenze e di arrivi. L'omaggio a Torino è molto presente anche nelle altre tracce del CD, spaziando però anche verso altri temi che evocano mondi multiculturali. Ciascuno di noi porta le proprie immagini che a livello musicale è interiorizzato negli anni, a livello di influenza, a livello di storia e in questo c'è sicuramente la nostra città, ma c'è anche, come hai detto tu, una parte più nomade, ad esempio c'è un brano molto caratteristico con il quale noi dobbiamo aprire tutti i nostri concerti, che è Sara, che è stato scritto da Mattia, che ha comunque reminescenze molto distanti da quella che è la nostra città urbana, perciò abbiamo estrapolato un certo tipo di sonorità e l'abbiamo resa parte fondamentale, una componente assolutamente fondamentale del nostro gruppo, come questo brano. Ce ne sono molti altri, alcuni sono più legati ad alcune zone. Leggo una citazione. Nel mondo interiore dei Thun si balla più non posso. Quindi a voi piace tanto l'idea che sulla vostra musica si possa ballare? A questo assolutamente, noi abbiamo cercato di coniugare il più possibile il mondo del jazz, noi siamo tre musicisti che arrivano da quel mondo lì, abbiamo fatto un sacco di cose in quell'ambiente, e però nello stesso tempo abbiamo un'anima danzereccia, si dice, no? Per cui siamo partiti proprio pensando che agli inizi del jazz, il jazz era una musica da ballo, no? E per cui ci siamo posti anche un po' come obiettivo questa cosa di provare a fare una musica non del 1920, ma del 2020, no? E con la nostra informazione ci fermiamo, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e ai nazionali. Siamo sul web, sul giornale del Molise.it, in evidenza il Covid, ancora 11 casi a Trivento, il sindaco Corallo dice ci sono 7 guariti, e poi all'interno dell'articolo la situazione. Si parla anche delle amministrative, 14 comuni in provincia di Campobasso al voto, i nomi dei candidati alla carica di sindaco. Anche quest'altro titolo, arrivati 63 profughi afghani in Molise. Restiamo sul giornale del Molise.it, vi segnalo la sezione editoriali, questo articolo a firma di Paolo Frascatore, dal bipartitismo imperfetto alla democrazia oligarchica. Una riflessione sulla teoria di Gianfranco Pasquino, secondo la quale la democrazia dell'alternanza esige necessariamente la realtà di solo due poli politici, scrive Frascatore, destra e sinistra, alla quale si aggrega di volta in volta un centro diviso tra conservatori e progressisti. Ci spostiamo su futuro Molise, i dati sui contagi in regione, quattro positivi, il bollettino ufficiale del 5 settembre scorso. Un focus anche sul super bonus in Molise, già avviati oltre 250 interventi, gli approfondimenti sono più in basso. Dal web alla carta stampata, siamo su primo piano, amministrative, primi responsi, la sfida si accende. A Isernia esclusa una lista a sostegno di tedeschi, l'imprenditore non molla. Volt suona la carica per Castrataro, spezzerà le catene del clientelismo. Intanto c'è uno speciale all'interno, i nomi dei candidati in lizza paese per paese. Le altre notizie, il Covid, quattro contagi ma niente ricoveri, i sull'immunizzazione, caccia agli indecisi. I vertici Asrem, in trasferta al mercato di Isernia per convincere reticenti e timorosi. Non rinunciate alla dose, è l'unica arma. Tanto restando in argomento, si parla anche dei manifesti no-vax, i medici pronti a tutto, dicono deliranti, vanno rimossi. Questo è quanto ha detto l'ordine dei medici di Campobasso. Restiamo a centro pagina, trasporti e pubblica amministrazione con Green Pass necessario, se vogliamo uscirne, sono le parole del governatore. Altre notizie, di spalla uscenti che lasciano e ci riprovano, si parla dell'amministrativa, e a Chiauci non corre nessuno. Altre da Termoli, le future mamme si uniscono alla causa, altro ricorso per tenere aperto il punto nascite. Andiamo a Campomarino, mille alberi per far rinascere Bosco Fantine, al via la piantumazione. Per quanto riguarda l'Oasi WWF a Venafro, storie di turisti incantati, dicono il Molise e come l'amore bisogna cercarlo. Rubblica il punto, oggi porta la firma di Pietro Chiaro, piccoli centri in estate, qualcosa si muove. Adesso il calcio, Lupi, K.O. Amaro, bel gioco e lacune da colmare. Chance, riscatto contro il Monte Rossi. Coppa Italia regionale, I Serni, Agnone, Venafro e Campo di Pietra, qualificate. Infine il mondo dei motori, Fabio Emanuele, trionfa da campione allo slalom di Rocca d'Aspide. Queste dunque le notizie sulla prima di Primo Piano. Ci spostiamo adesso sull'informazione nazionale. Il Corriere della Sera, in apertura, arriva il Green Pass esteso. Entro un mese, in vigore l'obbligo per i lavoratori. Il G20 a Roma, patto per aiutare i paesi poveri. Intanto Mattarella dice, chi non si vaccina, limita la libertà. altrui rigore contro i violenti. Questa di spalla, con questa piccola foto, si parla di una poliziotta incinta di otto mesi, giustiziata dai talebani. Siamo chiaramente in Afghanistan. Dunque per i talebani, Banu Negar era doppiamente colpevole. Cioè donna e per giunta poliziotta. Per questo è stata assassinata. Siamo di taglio centrale, duello sul reddito di cittadinanza. Salvini con Meloni è come il metadone. Chiudiamo il Corriere. Siamo adesso su Repubblica. L'apertura sulle frasi, le dichiarazioni di Mattarella, sferzata ai Novax. Non si invoca la libertà per sottrarsi dal vaccino, mettendo a rischio la vita degli altri. E chiede sanzioni severe per le violenze. A Roma intanto il G20 dei ministri della Sanità sulla pandemia. Immunizzare i paesi più poveri o non riusciremo a fermare il virus. Nel sommario si legge ancora Tregua, Salvini, Meloni, Nucleare, Verde, La Lega con Cingolani. Il reportage tra le donne nascoste di Kabul. In questa foto, in una protesta, i talebani intervengono ad una manifestazione delle donne di Kabul per i loro diritti. Il fatto quotidiano leali a Draghi ma dipende da cosa fa e no al nucleare. Parla Conte alla festa del fatto quotidiano. Obbligo vaccinale solo l'estrema razio. In alto, Landini, mobilitazioni a tutti i livelli se non saremo coinvolti dal Premier. Intanto dice sì al reddito e al salario minimo, anzi Massimo a parlare è il leader della CGL. Ci spostiamo su Libero o destra o sinistra basta con gli inciuci. La Meloni a tutto campo. La leader di Fratelli d'Italia servono due schieramenti. La parola centro porta ad Ammucchiate. Draghi al Colle il vantaggio è che si voterebbe aggiunto. Intanto a Cernobbio incontro e pace tra Matteo e Giorgia. Chiudiamo anche Libero per uno sguardo al tempo. L'apertura è politica. Finalmente Sposi vedete, li conoscete. Dunque, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si chiariscono davanti al manzoniano ramo del lago di Como. Pace, sorrisi e selfie. Il mattino adesso apertura, nuovo piano per il lavoro, stop disparità nord-sud dai livelli minimi di prestazione ai servizi previsti, standard uniformi nel paese. Affondo di Salvini sul reddito va abolito. Gero del governo. Il PD dice no, va riformato. E adesso a fondo pagina vediamo questa notizia che negli ultimi giorni ha fatto il giro d'Italia. Quel gratta e vinci è mio e l'ho depositato in banca. Parla il tabaccaio che stava fuggendo alle Canarie e poi aggiunge chiarirò tutto. Proseguiamo con il sole 24 ore. Green Pass a scuola controlli in due click così la piattaforma pronta. Dunque la soluzione è messa appunto da Sogei per il check dal 13 settembre dei certificati. Altra notizia profughi fermi 100 mila ricorsi i tribunali chiedono rinforzi. Chiudiamo il sole 24 ore per passare adesso alla stampa così cambia il reddito di cittadinanza. Scontro sul sussidio Meloni è metadone di Stato ha detto Conte è civiltà ha replicato Salvini sia al nucleare che al Green Pass per gli statali. Mattarella intanto vaccinarsi è un dovere civico. Franco annuncia il piano su IRPEF e taglio del cuneo fiscale. La stampa oggi propone questa grande foto a centro pagina con gli stupendi atleti della Paralimpiade nazionale ma adesso non dimenticatevi di noi. Dal quotidiano torinese la stampa alla verità non se ne esce Israele alla quarta dose. Il responsabile della campagna vaccinale dello Stato ebraico accenna apertamente alla necessità di prepararsi a un'altra serie di iniezioni mentre nel paese è in corso la terza ma se questi medicinali sono meno efficaci del previsto quanto andremo avanti si chiede la verità. Tanto oggi l'incontro tra sindacati e Confindustria verso la richiesta di una legge sull'obbligo. Uno sguardo al secolo d'Italia parla Giorgia Meloni che è intervenuta al forum Ambrosetti la debolezza della politica è alla base di tutti i problemi del nostro paese poi di taglio basso Berlusconi è l'ora di un esercito comune europeo si parla anche del tabaccaio preso che ha rubato i dati e vinci da 500 mila euro è stato bloccato all'aeroporto di Fiumicino lo sport adesso in primo piano la nazionale che si è incontrato la Svizzera 0 a 0 risultato sprechi da record del titolo di apertura del quotidiano sportivo abbiamo il mal di gol immobile e Berardi flop Giorginio sbaglia un rigore la qualificazione mondiale non è ipotecata e Mancini parla di occasione persa decisiva la sfida in casa contro gli elvetici che ci sarà a novembre restiamo in argomento qualificazioni mondiali blitz anti-covid sospesa Brasile-Argentina Messi va in campo con quattro compagni in quarantena intervengono le autorità sanitarie in alto paralimpiade 69 medaglie i segreti di un miracolo e si parla anche della pallavolo la rivincita e social mazzanti che risposta le ragazze dunque campionessa dopo tutta la M avete capito che è stata gettata addosso dopo la non perfetta performance alle olimpiadi bene come sempre con la gazzetta terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione grazie per averci seguito vi ricordo alle 14 in diretta la seconda edizione della telegiornale buona giornata grazie a tutti